La pubblica assistenza VOPI seleziona 8 operatori volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare nei progetti di servizio civile universale. È possibile presentare le domande fino al 26 gennaio 2022, entro le ore 14. Per presentare la domanda di partecipazione bisogna accedere alla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it e ricercare il progetto Solidarietà al servizio delle comunità campane. Ente Ampas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze di Bellizzi. Il servizio di pubblica assistenza verrà prestato nella sede di Ponte Cagnano Faiano. È necessario essere in possesso di SPID per poter compilare la domanda. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Pubblica Assistenza VOPI o scrivendo una mail all'indirizzo vopisacchiocciolalibero.it. Vi aspettiamo il servizio civile e sentirsi utili.